Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video del pagellone barra giorno dopo, inerente come vedo che sia, della sconfitta degli azzurri a Milano per 1-0 Prima di incominciare il mio video come sempre, iscrivetevi al canale, condividete il video e lasciate tantissimo mi piace, se ovviamente il video vi deve essere piacere inoltre cliccate sulla campanellina per ricevere sempre aggiornamenti in descrizione troverete tutti i miei social, soprattutto Instagram dove dopo il video vi pubblicherò il programma settimanale delle live e poi il link di Twitch dove vado costantemente in live a proposito, grazie, che siamo arrivati a 7600 prossimo obiettivo, 7700 quindi ragazzi, cerchiamo di crescere anche lì perché ormai lì, la reputo casa mia ormai che io sto dando tutte le forze, tutto il mio tempo tutte le mie energie in quell'altra piattaforma e poi, lo sapete, è inutile ripetervelo quando c'è un argomento bello, succulento vi pubblico anche il video in questione detto questo, Milan-Napoli altra sconfitta, ulteriore sconfitta con un gol preso da, essenzialmente da Polli e ragazzi, io sono amareggiato sono arreso sono sconfortato sono tutto quello che non ero l'anno scorso perché l'anno scorso abbiamo vissuto sulle ali dell'entusiasmo e quest'anno va tutto storto va tutto male c'è una confusione tattica in una maniera incredibile confusione tattica e confusione dirigenziale ma questa confusione dirigenziale sulla partita di ieri non serve a niente lanciare frecciatine dal punto di vista dirigenziale anche perché la dirigenza non conta niente o quantomeno conta fino a un certo punto conta sulla scelta di Mazzarri Mazzarri che a ottobre ha fatto una dichiarazione da Lecchino dicendo io ho studiato il calcio di Spalletti e poi ha portato solamente confusione Mazzarri che da me stesso è ritenuto uno bravo maniacale sulla difesa e poi vai a vedere ieri vai a vedere le altre partite precedenti abbiamo subito gol in maniere indecorose cioè ogni gol ha la stessa ma gli stessi movimenti sbagliati della difesa cioè allora io non mi appello tanto al modulo oddio forse si cioè Mazzarri deve iniziare a non portare confusione tu dai confusione ai ragazzi dai una tantissima confusione prima giochi con 4-3-3 poi 4-2-3-1 poi con le big difesa a tre non si capisce un cazzo e i ragazzi non capiscono automaticamente niente e tu più non li fai capire niente più inconsciamente loro giocano contro di te perché ti vedono in confusione quindi canna fa poi per carità anche i giocatori hanno la loro colpa però raga Mazzarri mi ha deluso posso dire mi ha deluso è un bollito si è un bollito del cazzo è un bollito del cazzo l'ho detto stamattina l'ho detto l'ho detto ma non è la prima volta che l'ho detto che mi è sfiorato il pensiero però già è fatto che della parentis mercoledì ha detto l'abbiamo scelto perché è uno di famiglia insomma ci va a pensare ci va a riflettere sulle sue parole ok ieri praticamente è iniziato col 3-4 3-5 1-1 ok Quaraschelia trequartista che poi per carità l'abbiamo interpretata anche benino la partita ok però sa da signà è qua è colpa dei giocatori sa da signà sa da signà sa da porca troia signà perché tu col Milan tu col Milan puoi aver giocato benissimo però è signà perché ha un Milan che è pur sempre in Milan è pur sempre una squadra di qualità li basta nazion e segnano punto e hanno segnato e hanno vinciuto andiamo a commentare un attimo le parole quello Mazzari ha detto il Milan ha fatto un feroce pressing nel primo tempo poi è calato nel secondo tempo noi potevamo fare meglio nel secondo tempo al di là del modulo abbiamo giocato bene per carità abbiamo giocato bene lo ripeto l'ho detto e lo abbiamo anche a tratti interpretato bene anche se ci sono giocatori che non ci azzeccano un cazzo con questo modulo cioè per esempio Di Lorenzo per me non è un esterno infatti si è visto ha fatto degli errori assurdi per quanto mi riguarda e per me ieri Di Lorenzo ha sbagliato tutto ha sbagliato tutto poi domani poi dopo faccio le pagelle ma ha sbagliato tutto per quanto mi riguarda ok quindi poi giocare bene vabbè tu non basta giocare bene tu devi giocare efficace tu devi segnare cazzo sul gol subito sapevamo tutta la settimana degli inserimenti di Teo non mi piace dire che ha sbagliato ma è stato fatto ed è inutile rimuginare ormai dovevamo fare meglio ma bisogna andare avanti allora allora ragazzi analizziamo un attimo il frame del gol di Teo ok allora per un momento non mi vedrete più poi mi metto pure questo ecco qua la pallina allora questa è la difesa difesa schierata difesa schierata difesa fottutamente schierata eh Mazzocchi Guayesus Anghissa Lobotka Rachmani Ostigard di Lorenzo di Lorenzo che dovrebbe stare qua Ostigard dovrebbe stare qua Rachmani che dovrebbe stare un po' più al centro e Anghissa dovrebbe stare qua Guayu Anghissa dovrebbe stare qua perché Anghissa sta qua al centro invece di qua grazie al cazzo che Lobotka è sconfortato perché all'improvviso io l'ho visto proprio che rallentava perché con la gamba non c'ha fa che poi non è tanto oddio sì è anche colpa di Rachmani che esce troppo però è anche Guayesus che non scala e non fa la diagonale cazzo ma aglio ma se Mazzarri è da me stesso è reputato come un maniacale della difesa ma questi sono errori banali sono errori banali tu che non scali poi cazzo loro giocavano con tre punte tre 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 e tu hai consegnato un difensore in più a loro e hai rinunciato ad attaccare caro Mazzarri io lo ripeto ieri ti è mancato il coraggio perché tu ti attaccavi un po' di più in Milan in Milan non soffriva cioè appena tu nel secondo tempo hai cambiato hai messo 4-2-3-1 in Milan sei messo a tre perché sei cagato sotto e ha pensato a difendersi e che cazzo cioè ma cazzo stammattina sul quarto posto è possibile il quarto posto oggi non meritavamo di perdere noi dobbiamo giocare sempre per vincere oggi avremmo potuto anche vincere se fosse girata in un certo modo lotteremo fino alla fine ed ho fiducia tu tu pensi in questa situazione di poter battere Fiorentina Bologna Atalanta Roma tu ma se hai preso quattro pappine dal Torino e sta dietro dietro di noi a un punto mi sembra tu pensi di credere il quarto posto io nel quarto posto non credo più quindi basta raccontare favole poi oh se fai miracolo amen però almeno mancano tre mesi e te ne vai a fangula e spero che la società guardi apra gli occhi e dice ragà abbiamo fatto una stronzata ripartiamo da zero cediamo tutti i giocatori dello scudetto ne facciamo rimanere 4-5 proprio per mantenere quanto minimo l'ossatura ed ecco qua cioè ma io ma come cazzo spera di vincere se gioca cacato sotto perché voglio col Bologna con l'Atalanta con la Roma giocherà così giocherà cacato in mano cioè tu hai un pacco attaccanti un pacco offensivo attaccanti di primo livello oddio di primo livello no però di una certa qualità e tu pensi a difendere che ora Schella può giocare in ogni modo i compagni devono aiutarlo con gli inserimenti non può mica saltarli tutti ha giocato bene e qua almeno ha ragione perché almeno quella scheda è l'unico predica nel deserto e c'è stata un'azione in cui l'ha passata in mezzo ma anche stava in netto ritardo e comunque oggi l'ha persa Mazzarri con i cambi e tutto ma l'ha persa anche i singoli ma io come ho detto prima anche la coppa dei giocatori cioè oggi il centrocampo era ieri ieri ma anche oggi si è sudato la luce cioè raga ieri il centrocampo era totalmente l'unico positivo era la botca nata a vota il tanto criticato il tanto che ha detto l'anno scorso la botca ha overperformato sai quando me cioè dell'ossatura dell'anno scorso solo che verrà a scalire la botca stava giocando al loro livello diorenzo diorenzo è calato diorenzo è calato ieri ha giocato male e inutili dicono no diorenzo non deve essere attaccato no gli attacco tutti gli attacco tutti gli attacco tutti io l'ho sempre detto a me non mi interessa il nome dietro a me mi interessa questo lo stemma davanti se loro lo macchiano meritano le critiche su nuovi acquisti e zelischi poi ha parlato anche sono arrivati tanti giocatori che saranno nel futuro del napoli lasciare fuori zelischi non era semplice ma è stata una rinuncia necessaria oggi pio tra giocato ma non è detto che giochi le prossime cioè praticamente praticamente si può dire che zelischi è fuori rosa però nonostante fosse fuori rosa lo fai giocare che senso ha che senso ha ma zà visto che la società non ti ha ascoltato nel prenderti un difensore e un centrompista di qualità posizielischi gli presenti i documenti e dici non mi senti non mi ascolti queste sono le dimissioni io me ne vado e avrai più dignità invece continui con questa idea passata all'antica che non si va da nessuna parte caro Mazzarri devi avere un po' di coraggio nell'interpretare le partite coraggio intuizione e sbagliate ma che se io lo ripeto ancora oggi io devo ancora io mi sono svegliato con questo pensiero che senso ha aver cambiato mazzocchi che è stato il migliore che senso ha che senso ha l'industrom ieri è entrato con lo spiglio giusto raspatori bene benino ma senza c'è confusione totale confusione e anche un poco di nervosismo c'è stata un'occasione che io su cv me l'hanno fatta notare che praticamente c'è stata un'occasione in cui Cavaraschella poteva tirare ma è venuto Politano e ha tirato Cavaraschella gli voleva dire qualcosa ma si è ma è stato zitto c'è ok che predicano il deserto ok che non stanno a chitarla ok che giocano da soli là davanti il dia che Politano a parte il tito ma ne è entrato benissimo ma siamo sicuri che stanno tutti tranquilli cioè è come se mancassero fiducia nell'altro mazzarri si rimettesse basta perché se non se non riesci a fare il lavoro da psicologo perché serve serve uno psicologo a sti ragazzi a dargli una sveglia psicologo soldato quello che è bisogna dargli una sveglia Pacelle Gollini 6 si forse poteva uscire prima ma va bene così Di Lorenzo 5 male sta giocando sempre da due anni a questa parte merita un pochino di riposo però non può essere un'unica giustificazione anche lui mi sembra molto arreso dal futuro che verrà Rachmane Guaiesus 4 e mezzo pessimi 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 soprattutto sul gol Mazzocchi 6 e mezzo Mazzocchi 6 e mezzo il migliore bravo in fase offensiva ha creato qualcosa bravo nei diagonali è stato uno dei migliori Ostigard Ostigard 5 5 uno meno peggio anche se non è braccetto Ostigard non ha un braccetto Ostigard è lento Maldiade è lento qualità relativamente se tu metti una difesa a tre ti servono difensori di qualità i nostri difensori hanno i piedi a X non sanno passare la palla vabbè Zelischian chissà uno quattro e l'altro quattro e mezzo centrocampo pessimo inutile Lobotka 6 l'unico migliore Gavaraschelia 6 e mezzo mi è piaciuto va bene gli sguizzi è l'unico positivo in questo in questo Napoli in queste partite è l'unico che tenta di fare qualcosa è l'unico che prova a fare qualcosa ma non viene aiutato Simeone 5 due occasioni due sbagliate i subentrati Lindstrom 6 e mezzo mi è piaciuto il suo ingresso Olivera 6 poteva entrare doveva entrare ma doveva uscire di Lorenzo spostando mazzocchi sulla destra Raspadore e John G 6 e senza voto Mazzarri 4 Mazzarri 4 cambi sbagliati modulo confusione totale ma non solo modulo iniziale anche a gara in corso cioè a gara in corso 4 3 3 4 2 3 1 3 4 2 ha una confusione totale tu se metti solo confusione la squadra fa in confusione e nessuno sa quello che deve fare giustamente no ma poi voglio ripetere noi meritavamo di noi meritavamo anche di vincere mazzà tu devi rimpiazzare Leao che si è mangiato due gol che io qua voglio lanciare un messaggio ai milanisti no non è una provocazione è una curiosità come valutate Leao io io valuto che è un giocatore che deve andare via dal Milan perché uno che ha i 10 sulla maglia e uno che guadagna più di tutti mi sembra non segna da settembre e ha fatto solo tre gol in campionato sbaglia due gol a porta vuota si può dire cioè noi dobbiamo ringraziare Leao che ha i piedi a X pure e Osimane preferisce e Osimane Osimane Karit il giocatore il migliore giocatore col piede destro e Leao Osimane quando quando venne lui a costitare un affangulo proprio tu vabbè quella direzione è proprio fatta per andare contro alla gentrica Araschelia che gli ha parlato dietro l'unica soluzione l'unico pensiero che mi viene in mente raga fatemi sapere la vostra io sono sconfortato io tifo Napoli stiamo facendo una figa di merda una dopo l'altra stiamo umiliando lo scudetto ma non solo la stagione fatta l'anno scorso siamo alla peggior detentrice da dello scudetto ed è una cosa umiliante quindi la società ci ha umiliato non solo dal punto di vista degli acquisti delle ambizioni ma anche agli occhi degli altri e io mi sono arreso io ripeto continuerò a tifare Napoli continuerò a guardare le partite a sperare in qualche cambio ma alla fine ogni speranza è completamente vana fatemi sapere la vostra forza Napoli sempre e ci vediamo stasera in live e vi aspetto anche su Instagram per per il programma settimana delle live ciao ciao a tutti ma ciao a tutti che bella vita è, voglio viverla insieme a te. Ma cico Napoli, non conosco sacoli, che bella vita è, voglio viverla insieme a te.